E' lino per voi in Giochi di Mezzanotte Salve, ma come? Sono io per le ossa Nice, nice Eh, eh, lo pensavo anche di essere Yes, sir Alpha Squad Magari ti levi Ma quale... quale SWAT si mette in questa posizione? Come si muove? Come? No, no, io non leado proprio un cavolo No, Johnson è già scappato, è a casa con i suoi amici Tranquilli Chi è stato? Chi è stato? Chi è stato di voi? Sei stata tu, Marta? Eh? È inutile che ti giri, lo so che sei stata tu Oh, yes Perché devo... sono... Sono un gruppo di soldati... no, non ho detto niente Sono un gruppo di soldati SWAT E io devo... ecco E mo? Da! Non mi state così appicciccati Lo sacro di conoscere oggi Uì, è inutile che si ripresa Comunque non riusciano Come sento? Sì Stantile Uh Nice Existe Prendono un po' di casse l'amore tutto levatevi dalle palle c'è niente scusi eh puzza si lo so di qua non si può andare levatevi gruppo di SWAT allenati e li devo io lo farei io da leader, anzi un po' veramente oh no eh io non sei non vedo la ciappa neanche io ok sotto sembra non ci sia niente questa non sia ricarichiamo la doccia torce al giugato uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu BOOM AHHA ah ora vi sentite un po' come mi sento io ogni volta che faccio questa puntata uuuuh c'è l'allegro a compagnia zappa ok Così si fa con l'ascia Sì ma vi dovete levare Perfetto Bravissimi Tu? Sei vivo? No Ancora? No quello è Quelli sono stecchini Stecchini maledetti Prendetevela con Johnson Ah no Johnson è morto Prendetevela con Flavio Che stai facendo Flavio? Ma perché hanno un fucile a pompa E un mitaglietto di merda Ok What? Scusa Di qua ragazzi Follow me No non followatemi più Finito qua si la muniziona Di mannaggia No No Un po' di boxis Vaffa Eh E mo? Cioè Cioè siete tre fottuti SWAT E non fate un cazzo Non fate Niente Siete veramente persone inutili Ma cosa viene insegnata la cadena? Cioè io devo fare la scimmia Per conto vostro Sarà di qua Di qua sempre No Chiuso Chiuso Ok Ultimo qui Si può Vale Non si sa mai C'è qualche munizione Basta Signorina Lei mi ha aiutato prima Ora perché mi fa spaventare Prego Entrate Va cacare Eh Chiusa Ah Adesso fai qualcosa Quanto sei figo E non potevi farlo prima E quello che ho detto anch'io L'architetto dovrebbe uccidersi Veramente Sembra che sia Di magazzini Della Bartolini Chi è? Chi è? Chi è? Merda Com'è? Andiamo a cena Va bene Non me la faccio ridire Via 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 Che neppa Che neppa Via 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 Di qua Di qua Di qua Di qua Follow 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 Seguitemi Levati Ah si ma se non ti levino Non posso sparare Ah Salve Au Ci siete? Sento Ah Schifo che sono Stiposi Forse è meglio che Ah Stecchio di merda Stecchio numero due Au Ma smetti Ah L'ho raffreddato Ah Ancora Un altro Mamma mia Quanti siete La famigliuola Ho finito tutte le munizioni Per colpa vostra Oh Munizioni No Non voglio ricaricare No bugia No Ancora Ah No Non ricaricando Aspetta Aspetta Ok Due Due Tre Quattro Ci siete? Oh Quanti sono? Quanto sono smircio Sono piccolini e stronzi Io me ne sto andando Ragazzi Molta passione Oh Che è? Che è successo? Andiamo 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 Su su Andiamo Su su Johnson Marta No Johnson è morto Marta Flavio Andiamo Perfetto Ci siamo Nessun problema Nessun problema No problema Ho un fastidio Annasso incredibile Uh Mad kids Facciamo Andiamo Se c'è Un po' di No eh Ehi Aspetta Per tutti Come tutti Dove è il terzo? Ehi Beh Magari entri Grazie What? Eh Non è possibile avere un orgasmo Eh Infatti Andiamo Flavio Su su Adesso Fai il fico Dai dai Fai il fico Bravo Andiamo andiamo Su 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 Sono diventato Prova a fare il lead Su su Andiamo andiamo Su su Andiamo andiamo Dai 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 Fai la tua magia E quindi? Ok Ehm Ma Ah Fai la tua magia Grazie Cara Mmm Non ti capisco Non voglio sentire Uh Levetta Levati 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 Non ti piace Stare da solo con me Che sta facendo? Scusi Nooo Pensavo di doverlo Forse What's going on? What's going on? Make it stop Io conosco una soluzione rapida in dolore Per me Calmati Che sta facendo una soluzione rapida in dolore Che sta facendo? Che sta facendo? Che sta facendo? Dio Dio Non so Cosa Che stai facendo? Ah oh come on oh non ci credo vabbè si salve buongiorno vorrei ordinare una pizza si esatto una bavarese grazie è una lattina di coca va bene grazie ah adesso lo devo sparare no no dovevo ucciderlo dai dovevo non ho capito più niente oh finalmente mi ha dato l'ordine sparalo prego era solo la quarta volta che lo uccidevo farete tutti la fine di Johnson zombie dove non li vedo oh salve fate voi fate voi io non mi va di sparare solo i Jackie Chan ok adesso l'operatore dell'Enel adesso l'ex poliziotto con la mano cionca ok perfetto una volta sparate anche voi oh mi ha detto lo scappellotto in testa ok due due tre quattro operatore dell'Enel G.P.C.A.N. il torso aia 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 che punza ok perfetto ci siamo come behind us dove uh ci sono veramente e adesso passeremo alle maniere forti vabbè non volevate morire operatore dell'Enel ma non ha la testa l'operatore dell'Enel e mo you don't have the head e mo ma si ma come fai uh i stecchini di merda secchini altra sulle barrotti perfetto good job lo dico io good job sono il leader anche io non so neanche quanti anni ho vedi un po' tu ok un po' di problema sei stanco? Marta su dai no Marta ok ciao Marta siamo rimasti io e te e Flavio andiamo andiamo Flavio crepate andiamo andiamo ok au no più che shoot vorrei dargli fuoco Jackie Chan muori perfetto perfetto tieni mangia un po' di anche tu tieni prendete tutti fuoco basta basta si un vero pro gamer risparmia sempre le pro munizioni andiamo Flavio oh ecco così si sprecano invece oh mio dio ah no tu sei morto aspetta che ti prendo preciso perfetto oh Jackie Chan ciao Jackie Chan oh operatore dell'Enel grazie ma come ma ma smear ciò che sono eh muoviti muoviti fai la tua magia eh no giustamente io non lo posso fare ok 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 elipad perfetto andiamo 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 lz che cosa vuol dire dottore ti faccio un rilievo aiuta flanca secondo per fortuna cristallenge non vuoi trepare forse voi vi posso fare fuori così perfetto due no good job beh siamo arrivati all'elipad perfetto e l'elipad dov'è dov'è l'elipad eccolo sei sei siamo qui perfetto yuppie yuppie what no no ma sei ubriaco pilota ho fatto c ma dai ti sei fatto qualche tavernello prima di venire di la verità ma non ci credo anche peradiu non ci credo sentito lukila diventare c intriga ambito di qualcosa va bene ciao si 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 muori 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 si 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 ouch la me fanno male muori grazie si va giù ma che sta parlando in un momento questo elevatore va a durare sul livello direttamente all'interno se vuoi lasciare me in questo hospital ok se sei determinato mi 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 devo fidare della vocina. Ma... Un po' di vaselina? Sì, ma non so dovevo andare. Forse di qui. Oh, sì. What the fuck? Non mi voglio vedere così. Perchè, vai ora. Sei tu? Ma io non me ne voglio andare. Devi tu, l'annunciatrice. E ti rubo anche il microfono. Tiè. Lo tengo io. Signori e signori, benvenuti a questa partita bellissima tra i Broncos, i Gavard e i Gavard Broncos. Ma... Ok, non ho capito. Ci salgo sopra. Non ho molto ben capito cosa devo fare. Logical, che devo fare? Logical. Aiutimi. E se per caso... Oh, lol. Si continuava, che scemo. Si scende, si scende. Si scende, si scende. Ok. Io... Tu sei bene. Si scende. Si scende. Ho l'appropriata autorizzazione. Su, su. Fatemi arrivare. Ho l'appropria... Non chiudere le porte davanti a me. Che cappero. no ma è il dottore che mi aiutava prima, ma è sempre la stessa foto poi